Convenio al GSSI sul tema del robot pianta che hanno l'obiettivo di studiare e monitorare il sottosuolo. L'incontro è stato portato avanti dalla ricercatrice e scienziata Barbara Mazzolai, madre del primo robot pianta del mondo. Vediamo. Progettare robot che crescono automaticamente come piante in risposta agli stimoli ambientali. Di questo si occupa la scienziata e la ricercatrice Barbara Mazzolai, che al Gran Sasso Science Institute ha tenuto un convegno in inglese sul tema. La scienziata, madre del primo robot pianta al mondo, il plantoide, nonché direttrice del centro di micro-biorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nel corso dell'incontro ha anche spiegato alcune delle applicazioni che i robot pianta potrebbero avere nella nostra vita. I robot pianta sono i plantoidi che si muovono, percepiscono l'ambiente e esplorano come fanno le radici delle piante. L'idea è stata proprio quella di realizzare dei robot autonomi per monitoraggio dei suoli e quindi specialmente applicazioni in agricoltura, per fare monitoraggio per esempio dell'acqua oppure anche di sostanze come l'azoto, il fosforo, la temperatura. Quindi è nata avendo in mente un'applicazione ben precisa, cioè il monitoraggio del suolo, dove le piante, in particolare le radici, sono quelle più adattate a muoversi. E da lì è nata poi l'idea. Cosa significa per lei essere qui oggi al GSSI? Per me è molto importante perché con Piero Marcati, il professore, abbiamo del GSSI, abbiamo iniziato prima ancora di questo progetto che adesso è partito, che si chiama Growbot e che invece prevede lo sviluppo di robot ispirati alle piante rampicanti. Però abbiamo iniziato a collaborare proprio per applicare la matematica allo studio della biologia e poi ovviamente a quella dei robot, in maniera tale di fare dei robot che sono molto più simili agli esseri viventi e quindi agiscono meglio nell'ambiente, nello stesso ambiente, cioè negli ambienti naturali. E quindi per me è molto importante questa collaborazione ormai avviata. Abbiamo degli studenti che lavorano sulle nostre tematiche, quindi a Ponte d'Era e qui all'Aquila. Insomma è solo l'inizio. Grazie a tutti.